Ciao a tutti voi da Rosi, benvenuti a questo appuntamento con la nostra vetrina dell'auto in compagnia di Pechini. Siamo nella sede di San Giuliano milanese dove trovate Mercedes, Mitsubishi, Renault e Dacia, oltre a vetture d'occasione. Vedremo tantissime proposte in questa puntata in compagnia di Luigi, che parlerà di Renault e di vetture d'occasione e con Filippo naturalmente. Ciao a tutti. E lui ci parlerà di Mercedes e Mitsubishi. Andiamo subito a vedere le proposte. Filippo, cosa ne dici di iniziare con Mercedes e in particolare con questa B che è qui accanto a noi? Ti dico che prima di iniziare con le nostre proposte qui a San Giuliano abbiamo un'importante comunicazione da fare. Solo per il mese di novembre, per tutti gli ordini effettuati per le vetture in casa, abbiamo la possibilità di avere due tipi di promozioni. Il tasso 0 è una promo speciale per un ecoincentivo per le vetture diesel dall'euro 0 all'euro 4 FAP, per vetture con immatricolazione fino al 2007. Questa promozione si sviluppa tra i 1000 e 2000 euro che vengono tolti dal prezzo, quindi tutte le vetture in casa sono promozionate, tutte le vetture in casa devono essere pronte a consegna e inoltre con questo prezzo, già un prezzo super, con questo diventano impossibile non comprarle. D'accordo, quindi impossibile non comprarle, seguite la promozione, seguite i prezzi e avete sentito tanto Filippo naturalmente vi spiegherà poi man mano su ogni vettura se usufruisce del ecoincentivo oppure del tasso 0. Andiamo subito a vedere queste proposte. Eccola qui, finalmente adesso ti spiego anche la classe B. Classe B 200, automatica sport, bella con gli interni chiari, un sacco di luce, sia interna che esterna. Macchina di 10.000 km, immatricolata luglio 2016. Pensa, costa 40.900 euro nuova, il nostro prezzo 25.900 euro. La vettura ha su anche tanti altri accessori, il cambio automatico, i sensori di parcheggio davanti e dietro e parcheggio da sola, il navigatore, i led, il pacchetto luce e gli specchietti e altri accessori che vi prego di venire a vedere e toccare con mano su questo tipo di vettura. Rosy, abbiamo ancora le nostre primo prezzo, poche ne sono rimaste. Questa classe A 180 benzina costa di listino 30.900 euro. Il nostro prezzo 19.900 euro. Mi dirai, non ha molti accessori. Ti devo contraddire. Sensori di parcheggio, navigatore, pacchetto luci, telecamera, volante in pelle, schermo del navigatore grande. Quasi quasi te la vendo. A quanto? A 19.900 euro. Adesso ti presento una bellissima macchina, classe A D Sport. Questa macchina è molto particolare perché ha un interno che non si trova facilmente, ha un interno in pelle col sedile comfort. E oltre a tutte le caratteristiche della Sport, cioè il cerchio lega 17, il doppio scarico, l'interno in pelle e l'impronta sportiva, come sempre le nostre vetture hanno molti altri accessori. Quindi anche lei, navigatore, sensori di parcheggio e telecamera, pacchetto luci e il tergilava termico, che non lo menzioniamo mai, ma è importantissimo. Perché in caso di neve e ghiaccio abbiamo sempre il vetro pulito. Numero uno per la sicurezza. E questa a quanto me la venderesti, Filippo? Listino 33.900 euro. 22.900 euro. Tutte le vetture in casa usufruiscono delle promozioni. Ricordatevelo, è importante. Quindi su questa, come leggete, c'è la possibilità di un eco-incentivo. Mercedes classe A 180 diesel, automatica. Prezzo di listino 34.900 euro. Prezzo esposto 22.900 euro. Attenzione, su questa c'è il tasso zero. La vettura ha i fari LED, il cambio automatico e il Bluetooth e la predisposizione al navigatore. Mercedes classe A 180 D Sport. Un'altra, ma questo è molto particolare. Faro LED, cerchi in lega. A giugno 2016 l'immatricolazione. Ha su, come tutte, un sacco di accessori, tra cui la telecamera, il display grande, il pacchetto luci. E, come ho detto prima, i fari LED ad alta profondità. Costa solo 1.000 euro più dell'altra, quindi 23.900 euro. Il suo listino era di 34.900 euro. Questa vettura gode dell'eco-incentivo. Quindi, correte, correte, correte. GLA 200 Style. Benzina, 1.6156 cavalli. 13.800 chilometri. Una vettura con un prezzo veramente speciale, 26.900 euro. Anche questo gode del tasso zero. Ecco un primo prezzo di classe B gasolio, modello business. Sono vetture che nuove costano mediamente 35.000 euro. Noi, come primo prezzo, le mettiamo fuori a 21.900 euro. Anche questa gode dell'eco-incentivo. Anche questa ha 9.000 chilometri. E, come tutte le nostre vetture, anche se il primo prezzo ha già degli accessori di base, che sono importantissimi, con i sensori parcheggio, il navigatore, il pacchetto luci, gli specchietti richiudibili, per la città sono essenziali. Mercedes GLA 180 Sport. Listino 37.500 euro. Il nostro prezzo è 28.900 euro. Questa vettura gode dell'eco-incentivo. E, inoltre, è una vettura con solo 11.000 chilometri, immatricolata nel 2016, con tetto, navigatore, sensori, portellone elettrico, telecamera, specchietti richiudibili e pacchetto luci. Bene, Filippo, mi hai trovato la vettura, me l'hai trovata al prezzo giusto, mi hai fatto un finanziamento a tasso zero, ed ora? Ed ora è venuto il momento che guidi la tua stella. Bene, insieme a Filippo abbiamo visto veramente delle grandi occasioni per quanto riguarda Mercedes, ma non finisce qui, abbiamo parlato di Mitsubishi. No, non finisce qui perché tra i nostri marchi c'è anche Mitsubishi. Siamo concessionari, siamo officina, abbiamo i ricambi e abbiamo anche, fortunatamente, le chilometri a zero. Guarda che bella sta farfalla. È bellissima questa farfalla che vola davanti a noi. Anche a lei piacciono le Mitsubishi. Assolutamente. Abbiamo tutti i modelli da vedere e da provare in casa. Per questo periodo abbiamo anche delle opportunità non indifferenti, partendo dalla Space Star, la SX e anche un chilometro zero come L200. I prezzi sono veramente competitivi. C'è una grossa promozione come per le Mercedes. Abbiamo anche qui il tasso zero. Sulla Space Star c'è l'anticipo zero, tasso zero. Fino a 15.000 euro per le nostre SX e chilometro zero, fino a 20.000 per il nostro L200 Intense 181 cavalli, sempre comunque nel simbolo dell'ecologia. Tutte vetture, ripeto, euro sei. Rosy, cosa ne diresti di una vettura di 3,80 metri di lunghezza, mille benzina, possibilità GPL a solo 9.700 euro, possibilità di comprarla, anticipo zero, tasso zero in 24 mesi. Ma è da prendere al volo. Aspetta, ASX gasolio, euro sei, diesel, clima automatico, fendi e nebbia, sensore di parcheggio, ruote lega da 16, questo è un prezzo molto interessante, 17.900 euro, anche qui 15.000 euro di tasso zero. Anche questa è un'occasione imperdibile, se vi serve qualcosa di un pochino più grande. E se invece amo il pick up? Siamo il pick up per privati e aziende, su questo c'è una promo molto particolare, dove la mia azienda, io ho lottato molto per avere questo tipo di promozione. Il mezzo viene 23.000 più IVA, 20.000 euro a tasso zero in 36 mesi, è una promozione che sono sicuro abbiamo solo noi. Assolutamente sì, pensate, 20.000 a tasso zero e i 3.000 che mancano potrebbero essere anche una permuta eventualmente? Sono più di 3.000 perché il prezzo è più IVA, ma potrebbe essere certo anche una permuta. Assolutamente sì, quindi la vostra permuta e poi fate il finanziamento a tasso zero. Comunque venite assolutamente a chiedere altre informazioni qui a Filippo. Per finire abbiamo due occasioni importanti anche su Outlander. Abbiamo due Outlander pronte a consegna a chilometro zero, con due modelli cambio automatico, un 5 posti e un 7 posti, a partire da 29.900 euro. Anche queste vetture godono del tasso zero. Anche per Renault grande disponibilità di chilometri zero. Partiamo da Kangoo Express, è un 1.5 turbo diesel con il climatizzatore radio bluetooth a 11.400 euro. Docker Van, turbo diesel, 1.590 cavalli, questo è molto interessante per quanto riguarda il superammortamento di quest'anno, a 10.500 euro. Megane 5 porte, Zen, turbo diesel, 110 cavalli con cambio automatico, 18.900. Poi abbiamo una serie di Megane Station Vagon a partire da 17.400 euro, sia benzina che diesel, in versione Zen e in versione Intense, che sono le più accessoriate. Si prosegue con Talisman, vettura molto molto interessante. Pensate che questa è un listino di 42.000 euro e la stiamo offrendo a 26.300. È una Intense DCI, 160 cavalli con cambio automatico, con le quattro rotte stersanti Multisens 4 Control, vettura stupenda. Capture Hypnotic, DCI 90 cavalli, a 16.900 euro. Poi Scenic, berlina, 5 posti, scusate, con Intense, Zen e anche con il sistema Bose, a partire da 21.900 euro. Abbiamo anche disponibilità di Scenic, 7 posti, Intense, Zen, a 24.500 euro. Clio, ecco qua, abbiamo una vasta gamma di Clio Km Zero, a partire da Zen DCI 90 cavalli, da 15.000 euro. Poi Zen DCI 75 cavalli, da 14.500 euro. E prima di concludere questa trasmissione, volevo ricordarvi che abbiamo delle ottime occasioni di vetture selezionate esclusivamente per voi. E partiamo volendovi offrire una bellissima Renault Modus, completamente ricondizionata, vettura bellissima, bianca. È un aprile 2012 con 79.000 chilometri, a 6.900 euro. Ricordiamo, macchine garantite 12 mesi. E continuiamo con una vettura aziendale, una bellissima Megane Berlina. È una Intense con il cambio automatico, ripeto, vettura aziendale con cambio automatico, a 25.000 chilometri, con 17.900 euro. Mercedes classe B 180 Diesel Executive. È una vettura del 2013, luglio 2013, 53.000 chilometri, 16.900 euro. Vettura stupenda, sempre con garanzia 12 mesi. Volvo V40 Business. È una vettura dotata di cambio automatico. È del 2015, con 46.000 chilometri, a 16.900 euro. Subaru Legacy Station Wagon. È una vettura dotata di impianto GPL. È un novembre del 2010, 11.900 euro. A questo punto vi saluto. Un abbraccio a tutti voi. Noi vi aspettiamo in via Pace 22, alla Pechini, dove troverete tante occasioni proprio per tutte le tasche.